Con noi Emanuela Pisani, autrice del gol del momentaneo 1-1, ci hai provato diverse volte già nel primo tempo, poi sei riuscita a sbloccarti, rete che però purtroppo non è servita nonostante il punteggio. Sì, diciamo che sono riuscita a sbloccarmi con il mio primo gol di quest'anno in campionato, però non è servito a portare i tre punti a casa. Dobbiamo migliorare su tanti punti di vista a livello tecnico, stiamo cercando già di migliorare durante la settimana, ci vuole un po' di tempo, magari un po' di impegno in più, ci voleva questa vittoria per tanti punti di vista. Però è andata così, questa settimana che affrontiamo al meglio per portare altri punti a casa. Non è stata comunque una settimana sicuramente semplice per voi, per quello che è accaduto alla vostra compagna, come abbiamo detto anche in telecronica a Veronica Moscillo, come vi siete preparate in settimana? Dunque una settimana molto turbolente. Sì, diciamo che non è stata una semplice settimana, perché un posto come hai detto tu, abbiamo una nostra compagna Veronica Moscillo subito, un grave incidente, e anche lei è una delle fondamentali, livello di gruppo, di campo, in tutto. Abbiamo cercato di prepararla il meglio possibile anche per lei, anche se volevamo dare tutto il massimo, come abbiamo dato il massimo. Tanti tiri fatti in porta, non abbiamo segnato, magari è il nostro limite che dobbiamo migliorare in settimana, e dobbiamo lottare di più e farlo anche per lei. Ringraziamo Emanuella Pisani.